Quanto rapidamente può scattare l'attrazione per una persona? Quanto rapidamente può scattare l'innamoramento nei confronti di una persona? In realtà l'attrazione e l'innamoramento possono anche essere istantanei. Non c'è un tempo minimo o un tempo massimo, proprio perché l'amore in senso assoluto è al di fuori dal tempo, al di fuori dello spazio. Allora tutto ciò può avvenire in tempi molto diversi. Si può innamorare mettendoci anni, goccia a goccia, oppure ci si può innamorare follemente in un istante. Questo dipende molto da tanti fattori. Si possono però accelerare i tempi dell'innamoramento con le tecniche di attrazione rapida, potremmo dire di attrazione istantanea. Non è detto che funzionino sempre, bisogna acquisire familiarità, bisogna acquisire una modalità diciamo molto sicura quando si mettono in atto le tecniche di attrazione rapida. In cosa consistono queste tecniche? Beh, consistono intanto nel catturare subito l'attenzione, nell'entrare rapidamente in contatto con questa persona attraverso proprio il tatto, contatto. Perché se non si entra in contatto rapidamente non si produce attrazione. Il nostro, il contatto fisico con una persona è molto potente, soprattutto se è abbinato ad un pensiero, ad una nostra predisposizione della mente. Quindi quando entriamo in contatto con una persona dobbiamo portare l'attenzione sulla parte del nostro corpo che entra in contatto con quella persona. Ad esempio se io con la mano tocco un braccio di questa persona mentre parlo porterò la mia attenzione mentale sul contatto tra la mia mano e il suo braccio. In questo modo trasferisco rapidamente a livello sottile energia nei confronti di quella persona e stimolo molto più rapidamente l'attrazione. Ovviamente il tutto può essere ancora accelerato maggiormente se si riesce a introdurre delle tecniche immaginative. ad esempio parlando con quella persona mi si potrà dire ma ti ricordi, ti è mai capitato di essere attratto istintivamente da una persona? Ti ricordi cosa è successo, cosa provavi? In modo tale che la persona vada a recuperare queste informazioni e mentre le recupera le rivive. Perché se noi dobbiamo recuperare qualcosa in qualche modo dobbiamo riviverlo. E nello stesso tempo però noi emetteremo un ancoraggio, quindi sarà in nostra presenza. E poi possiamo concludere la cosa se vogliamo subito ad esempio baciare questa persona, questa donna, ad esempio potremmo dire è capitata la stessa cosa anche a me mentre gliela diciamo, ci avviciniamo e la baciamo direttamente. Se tutto è andato per il verso giusto avremo diciamo generato attrazione nel giro di un minuto o due minuti, non di più. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!